Buonasera a tutti. Quello che recensisco stasera, L'età del ferro di Simona Castiglione, Morellini editore con la copertina di Gabriella Curuvilla, altra scrittrice, nonché grafica e scrittrice, è il primo libro che si aggiudica alla lode nel blog Letto, Riletto, Recensito. Libro di formazione totale. Cosa fanno tre persone, tre amiche? Come negli anni 80-90, cosa fanno quelle che vivono in periferia, quelle che vivono con il padre che lavora per enti importanti e alle quali danno una casa importante? Come sono i primi approcci verso gli interessi degli uomini, dei ragazzi? E questi ragazzi, bellocci di turno, incontrati alle scuole, al liceo, nella fattisfece, chi sono e quale mistero nascondono al fine di arrivare ad un finale sorprendentissimo, dove di mezzo ci sono altre figure che attivano, improvvise, imminenti, immediate. E ancora, cosa fanno i genitori di ognuna di queste ragazze? E cosa fanno i vicini di campo il contadino che ha il campo vicino ad una delle ragazze? E il coraggio e la forza dell'autrice di scrivere tutti gli aspetti dell'eccesso che si vuole andare a conoscere perché si deve crescere. Non in fretta, ma perché si deve crescere. Fin quando qualcuna lascerà le penne, non lo sappiamo questo qui, perché lo lascio scegliere a voi. Io decido di fare una recensione, una video recensione semplicissima, proprio semplice, perché è un libro che va comperato, va letto e va posizionato nella propria libreria come libro di formazione che si passa di generazione in generazione nelle mani. Non a caso, rumore fuori, libro di generazione che si deve passare da generazione in generazione, da mano a mano, da Trisavolo a nonno a madre a figlia, a padre, a figlio e quant'altro, merita di esserci. Ecco perché decido di dare una votazione di 10 lode, sapete che i voti per il blog letto, riletto e recensito vanno da 5 a 10. Questo è il primo che si aggiudica la lode, ricordiamolo, l'età del ferro di Simona Castiglione. Non voglio dire altro, scriverò proprio due parole, se non addirittura forse copierò la quarta di copertina a seguito del video e invito a comprarlo e a leggerlo con attenzione, un'attenzione importantissima che sviluppa, riprende, richiama tutto ciò che è il vissuto di ognuno di noi. Chi per stupidità, chi per intelligenza, chi per timore, chi per timidezza, fa o non fa un atto. Alla stregua sviluppa o meno l'azione conseguente all'atto. È questo che ci dice Simona Castiglione. Il libro appena qualche giorni fa esce sulla lettura del Corriere della Sera, è recensito da più parti, ne capisco ben don delle motivazioni. Capolavoro assoluto, prima lode in questo blog. Dieci e lode a Simona Castiglione all'età del ferro. Ciao, alla prossima.